Salve e bentrovati con il consueto appuntamento con Emanuele Mili, osteopata e didattrice del metodo GM5 di ginnastica. Ho sentito poco fa una cara amica che era preoccupata per la sua carenza di vitamina D. Siccome gran parte del mondo occidentale soffre di questa carenza, ho pensato bene di condividere pubblicamente queste piccole informazioni. Contro la carenza di vitamina D, vi consiglio di usare dei pesci come il salmone e le sardine che sono ricchi di questa vitamina. Poi di esporvi il più possibile ai raggi solari che cristallizzano la vitamina D alle ossa e di soprattutto fare del movimento perché la carenza di vitamina D si manifesta con dei sintomi che sono dolore diffuso, stanchezza cronica, spossatezza e soprattutto in caso gravi, porta all'osteoporosi, quindi a una fragilità ossea che espone al rischio di fratture e traumi. Io vi ringrazio, spero di essere stata utile e chiara e vi aspetto la prossima settimana.